Bentornati ragazzi, bentrovati Oggi, nuovo gameplay della serie Kellogg's Giochiamo a Bugs Bunny in Bugs Bunny in Bugs Bunny lost in time Bugs Bunny lost in time Eh non mi ero perso Ah quello lì, quello lì Infogrameser Infogrames, ma non abbiamo ancora visto se è fallita Infogrames Si Deve essere fallita Start, controller, controller No no no, start, dritti per dritti Qua non ci sono neanche gli extras, non mi poter rompere il cazzo eh Puoi fare solo start No, puoi fare solo start, quindi va bene Però guardiamola, cazzo, va beh, un minimo, cazzo Giusto, è l'unica cosa che c'è, non c'è neanche il menu Esatto Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Questo non sembra come Pismo Beach Yoch Yoch Puoi scegliere Puoi andare da nessuna parte Oppure Un punto di domanda Ah, è un punto di domanda Non ti fa andare da Eh no Da sbloccare, da sbloccare, da sbloccare Questa è la demo Da sbloccare E nowhere Out of nowhere Ah boh, sei convinto Ha detto Va bene Oh, un bel pilone votivo Come caricamento Cosa sacrificiamo oggi, Max? Un capretto? Ma si, sicuramente qualcuno ci dirà dove siamo No, chi è? Papà Voidila No, è Barattinger Una suocera Ma che cazzo è Sosera? Sosera Sosera Era della salsa Cosa vuol dire Sosera Nooo L'ha trasformato in una scrofa Vedi, è un buon trucco, Moil, ol' Goyle Puoi fare questo? No way Ma sembra lo siano degli agar Paparazzi che rincazzata Nella Ok Siamo un coniglio Ciao A dei buchi di tramo Ma perché Mile? Forse Mine Mine Amico Sempre British di cazzo di giochi Com'è possibile? Ma lui è molto British Buzz Bunny è un British per antonomasia Lo scatto Abbiamo Cioè, ma che scatto? Cerchio ti abbassi Fa crouch Esatto O Slowly Poi abbiamo Un bel catch in faccia Bello quello lì Quello sarà quello che dà le più emozioni di tutti C'era un modo per rotolare Guarda che si caricava ecco Questa non è grafica pre renderizzata Al contrario di Dino Crisis To sneak Ah per andare piano To sneak Esatto Cioè la veloce rompi tutto e muori Muori Ah c'è una carotina Devi pigliare le carotine Te l'ha detto eh Quelle dorate però Queste quante eh? Una mela No È un coniglio mangiare le carote Stai male con una mela Ah posso dare un calcio al pomodoro Esatto No c'è scritto leggi lint Leggi lint Wild holding Devi guardarlo Devi guardarlo Credo Drop Devi droppare Devi prima schiacciare R1 una volta Lo guardi E lo ripremi E lo ripremi R1 Eh vabbè ma R Right innanzitutto Ma non fa niente Mirai Eccole mangiate Ah l'ho preso Esatto Adesso di nuovo Schiaccio di nuovo se adesso fa qualcosa Credo Chat point Questa è anche nel tempo che sti cazzo Schiaccio di nuovo R1 Schiaccio di nuovo R1 Vai schiacciare Boh la mette via vedi Bello Bello Utile Wild Jab Ok quello lì Ah Lensoftly Lensoftly No way bro Che vuol dire Ah ok quello Vabbè Ragazzi Eh un po' di compenetrazione Softly Bello Questo è il tutorial Ok Vabbè poi lì non credo che tu debba andare basso Esatto lì puoi correre Un po' che non ci salti sopra di più per potenza Esatto Ok Ce l'abbiamo Ok adesso possiamo sperimentare il salto nel buco Vai E andiamo dall'altra parte vai Può dire cose equivoche per forza Dai Vai sei sotto Si vedevano solo le Questo si Ok easy Boh Ci mangiamo pure la carottina che c'era un'energia per scavare così Ma questo la Tav te la fai in Tre secondi Ma infatti Chiamiamo Bugs Bunny Ma qua sembra Si bagga così perché devi fare Oh è il momento giusto Mamma mia riga Ma perché devi cambiare camera così È ripida Eh vabbè Ma non penso sia questa la cosi Ah si beh effettivamente Devi metterlo sopra Devi lanciarlo È un bordello lanciarlo Ce l'ha scritto di schiacciare un sacco di tasti Salta E beh minchia ha fatto un precision Madonna Vai anche di nuovo Ma la devi mollarlo Adesso adesso vedrai Ma la mappe Lui mangia Land softly Yeah Madonna che letale E jump E land softly Paggato tutto Letale Bellissimo Vai possiamo andare alla macchina del tempo Oh Possiamo scendere Il metaverso è 2D Bellissimo Quaranta per Quindici per Onesto Cinque Cinque onesto Ah uno? Abbiamo uno di clocks Allora trenta per Allora Sonei c'è l'unico sbloccabile C'è qualcosa che fa ombra Bello C'è un dinosaur Beh ha di saltare sopra la sua testa quando lui è lì Perché se no ogni tanto se ne va Però con il crouch se no si incazza eh Di brutto E invece Non ho fatto crouch Ah Già sti crouch Ma mi cade qualcosa in testa No c'è un Ah via Porco zio Ma questo come ammazza Qui le carote quindi Tira gli cartelle Tira gli cartelle Vai vai Attona ti tira delle cartelle Vai Ah saltagli sulla testa Saltagli sulla testa Saltagli sulla testa Bravo Bam Adesso lo cade adesso il chicchi Chiccalo Adesso Fagli questo contro Non lo fa fare La roll contro La roll La roll Bravo Carrotina d'oro Carrotina d'oro Oh attenzione Il pianoforte Il cazzo Il classico peso L'incudine 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 Che ansia No ma qua c'è qualcosa da prendere Eh sì Una carota d'oro tipo Ah quello si butta giù Boh Risolta Risolta Non c'è cosa Vai l'incudine Ti serviva giusto qualcosa per salire sopra E qualcosa per prendere quella carota Che però Eh esatto Bravo broskips Basissimo se ci Era ovvio che andasse giù Vedo che Sei operativo Capito capito Beh qua devi aspettare che lui si abbassi E poi Oh va Ma non l'hai neanche vista Il cazzo Vai vediamo Eh vediamo Lo vedrai Bravo Sì sti giochi Col cursore Sono fattibili Oh Gnambe Ma quello Non c'è neanche bisogno che crashi Ma puoi mai salvare così Ogni diso Ma che ogni volta con sto low travel Mi già Papà lui tira Ma ho tutto il cazzo Beh devi palesemente andare di là Bello Vabbè ma aspetta che cosa bassi cazzo Ma aspetta Ma aspetta Ma no Olmost 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 Però hai capito bravo Certo che era ovvio Ma non capita Non mi sembrava Oddio Aspetta fallo avvicinare Fallo avvicinare Vieni vieni Seguimi Rifallo Bravissimo Vai Buttati Bravissimo Ascremi qua Capito Che concursore Vabbè ma questi Sono due dinosauri Cioè Due Non ben uno Ma ben due Tu vai in blind qua Quando lui è da sotto Capito E poi E poi stai qua Yoich Yoich Dai era la prima Era la prima Blind eh bravo E' timoroso adesso E' un E' un E' un timoroso Ti metti qua easy E' un chilling Ehi Ok Bravissimo Yeah Great Great It's amazing No Ok Qua Perché c'è C'è questo cosa vuol dire E ti dice che è sulle piattaforme C'è questo Te lo dattili Cerchio Cerchio Ma porco Avevo fatto cerchio Vabbè easy Scendo qua Scendo qua a posto Lasciami qua Lasciami qua Lasciami qua Va bene Va bene Cioè mi ha fatto tornare indietro praticamente Certo Te lo dattilo Come minimo ti ho fatto Cerchio Ma va che sei un pirla eh Devi aspettare No e lo stavo lasciando L'ha salvato L'ha salvato la vita Olè Non so come eh E' un cerchio Che tanto in automatico Va cacciati in quel buco lì Cacciati in quel buco lì veloce Non mi fa cracciare Oh ma piantagli un cartone in parte Non riesco ti giuro Adesso sta dormendo di nuovo Vuoi vedere Fai preventivamente cerchio Eh o salto Cerchio Eh ma Eh guarda che si rimette a dormire Non capisci un cazzo No easy Ok guarda che c'è una posta lì C'è la posta Vado Cosa devo schiacciare Hey do you see the next step Aspetta aspetta Capisci Tu retorno to the time machine Ho detto aspetta Non dovevo farlo Ho detto aspetta Speriamo che ci rispawni qua Si ci rispawni qua C'è il papa obiettile che ci dice Eh sti cazzi No che bisogna fare Noo che Vai prendiamo un orologio qua Se si può fare effettivamente qui ci sta Vediamo più livelli I guess you need a kickstart Vabbè vediamo Se lo vuoi io glielo do un kickstart Questo è il boss Io lo pianto il kickstart Shhh Guarda il freddo che danni assurdi Si si io mi metto sempre la crema in questi giorni Sennò anch'io sarei morto Ho capito Hai capito Hai capito Si una crema Si una crema Si una crema per le mani zio Una crema Una crema per le mani Una crema per le mani Esiste Ah boh lo batte lui in automatico Bam Guardalo lì che subito che li ha abbassato Che la base è bellissimo Bellissimo Li ha abbassato proprio Ciao ciao Benny Vai via però esatto Oh 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 Esiste proprio il buco E lascia fino lì Lascia fino lì Lascia fino lì Lascia fino lì Potrei lasciare Ah pensavo che mi sentisse Fati la roll Accanto appena ti cerca Ok 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 Roll 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 Versui lui E poi roll su lui Vai 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 Ok Ok Prendi a crotero Prendi a crotero Massacolo 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 Mazzini Speravo di ucciderlo in una brutta sola Quella che la crotero dopo poi ti chiama Wabbit dov'è l'altra? mi ha chiesto un'altra? vai, sparisci già qua dentro preventivo che bug, bellissimo vai, hai un sacco di tempo vederli un calcio secondo me tenta il calcio, tenta il calcio madonna, calcio guarda, questo è talmente male che l'hai fatto dai un altro calcio, prendi la clock prendi il clock ok, uno? come uno? uno serviva ah ok, ma uno per questo schermo infatti, via, ti fa andare via il boss era divertentissimo forse nella demo c'era sto boss vero? ci sto provando beh ragazzi 30 sveglie ah eccola qua, pirate here yeah, pirate diciamo c'è ancora l'epoca di pirata vai anzi fammi fare un secondo ancora meno qua zero chilometri Miami 15 siamo vicinissimi siamo paris 17 New York ti sta dicendo dove siamo? grazie a casa ai Caraibi sì ma London solo 867 e Parigi 1789 non è possibile è buggato è buggato ma lontra e Parigi sono attaccate zio andai google earth vediamo cioè da qua dobbiamo capire dove siamo effettivamente vai un posto che sta a 200.000 km dalla luna ci sta 15 km da Miami te lo dico subito vai Quebec 100 km pazzo è autosfasato che bec che bec non è pazzo posso dire che cos'è che bec qua per esempio possiamo subito cracciare sorry pal you don't have the super jump ability quasi di avere no way non me la ricordavo mica sta roba devi ma cosa fai? che cazzo ne so devo far qualcosa qua torna indietro i pirati cioè dammi qua fammi fa qualcosa cazzo sei terribile ma tu sei terribile guarda cosa stai facendo? terrificante stai tornando indietro? no hey what's up doc hey che succede? vuoi salvare un giro? eccolo lì Sam Sam è un cowboy l'antra suonato in pirata era già collocato nel tempo ma infatti perché? ma proprio così a sgamo ma perché deve fare? ma poi c'è Bugs Bunny c'è Bugs Bunny c'è Bugs Bunny è antipatico cioè non c'è niente da dire questa gente che ce l'ha con lui non ne può niente si sono in fede dici ma scusa arriva scusami ti arriva alle spalle uno che ti fotte la mappa si ti fotte la mappa qual è il problema? cosa gli dici tu? questi sono soldi this is money occhio che ma si ti manda il boomerang che carino ma cos'è? ma cos'è? fammi vedere è un granchio è un granchio lo ho lanciato nell'iperspazio bello è una baglia di pirati watch carefully ok bellissimo stavo un ton ton dove è il pirata dove è il l'orologio? tu stai guardando dove l'orologio? secondo me il pirata è in centro non hai guardato l'orologio io stavo guardando il pirata zio ma io ti ho detto io guardo il pirata tu guardi l'orologio ma me l'hai detto quando erano già partiti cioè vai era palesemente lì se l'altro era in centro è il pirata handle with care chi è? ma perché entra dentro? devo aspettare care per per handler handelarlo non me lo posso levare ma non entrarci dentro mi dà fastidio fai fuori lascia stare aspetta le handle with care devi trascinarlo la balza lasciamo tutto perché mi sono facciato le palle come? oh l'ho saltato la nostalgia oh qua cosa c'è? vai perla prendi la perla prendi la perla prendi la perla oh onesto adesso devi far tirare il piattello bellissimo devi far centro pure centro pieno o niente questo era bellissimo la visuale te l'ha messa così in automatico bello bello ci sta vai almost ah no no non devi beccare il centro di solo beccando per un tot di volte e sappiamo benissimo che ci vogliono circa 8 volte circa quanti quanti centinaia di anni per fare una perla dentro una esatto ne stiamo distruttando a quanto pare pochi anni per questa perla ti ha tolto tutta una vita intera svelto svelto costava questa perla sei morto se no costava di brutto questa perla adesso ok che vuoi lasciare ma raccogli le carote arancioni anche poi si è morto bezza carota anzio si è morti eh vabbè dai cos'è svegliato dove sei l'ottore che hai visto no ah occhio dai cos'abbiamo là giù vai dai 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 un'ottima prestazione una carotina te la dà la sto figlio androcchia minchia una dorata lassù vabbè e non ci dà vita però non mori eh non mi fa girare la visuale eh no poi è scriptata la sotto ok ok carotina subito carotina subito meno male che stava proprio per inculare la sola ma era l'ultimo si si mamma mia si ma la vedo dura adesso ricominciamo con mezza vita e lui che ci sta per cartonare guarda come lo ha ti ricordi cosa ci sono su te storie f1 f1 no no easy easy chill hai schivato hai schivato scusate cosa c'è là sotto è un'ombra occhio occhio quello ti sbocca a dozzo che brutto è c'ha l'alitazza lui fa l'alitazza la fuma troppe siga digli qualcosa cartellalo mi dà fastidio dai ci ha ammazzato con ciclano vabbè tanto ricominciamo da qua con tutta la vita cartellalo cartellalo cioè questo fa le animazioni più fastidiose cioè non ti fa niente è proprio fastidioso ti stanca facile ah ti vuoi proprio soddisfatto easy ma cos'è ma allora ma allora dobbiamo menare tutti tutti li massacriamo ma perchè ti è venuto e salta di più che senso va il timone vai un caos come arriviamo di là dobbiamo morire per forza no no devi chiamare ah devo facciare rotola rotola si rotola sai sei dall'altra parte come è possibile dove sono passato scusa c'è un buco ma si c'è il buco ma non lo puoi più raggiungere ma dov'è il buco ma non ha senso ma non ha senso dai mi son compenetrato vabbè ma si ma sono soluzioni logiche queste occhio adesso devi lanciare ah 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 che peccato che peccato ok quadrato è locca quadrato vai quadrato ma dai quadrato è locca cosa? non locca niente torni indietro questa è tua questa è tua questa è palesemente tua ma dai ma non puoi ma scusa perché hanno messo un save ma hai fatto hai fatto tutti i salti l'unico sal ma cosa? zio è un attimo che caschi in acqua è pangatissimo è rotto prendi ok vai ti ha mancato un decimo guarda cioè sono tutti i salti i salti più facili cosa ci va più facili mazza tira fai tira bene qua va oh è uno no attenzione per forza anche le noci di cocco poi ti hai tirato le noci di cocco rompi la palma ma dici ma si dai c'è una palma io do un calcio alla palma ma cosa devi fa? ma infatti o salta te via dammi te via dammi la noce di cocco rolla rolla niente era una bella ipotesi se non mandorle chiama chiama l'infrogram per favore si abbi sono già falliti no ma ho già chiamati in troppo poi ci sono tre salti hai il tempo salta 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 rolla niente bravissimo devo scappare devo scappare salta tutto qua non l'ha salvato fai f2 ok save 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 ok perfetto abbiamo abbiamo senti l'audio senti l'audio basta dai non vuoi che sia tutto bellissimo con questa conclusione da dj qua dovrei saltare che altro che altro che altro e salta non vuoi che sia tutto non vuoi che sia tutto qui ho che altro ci sono